Salvatore Suma, esperto di equiturismo in Basilicata, l'area di competenza è quella del Vulture, dal punto di vista ambientale, naturalistico, tutta da scoprire e sulle orme dei briganti è iniziata una lunga attività. Da tre anni mi hanno nominato presidente dell'equiturismo internazionale, quindi su questo vogliamo innanzitutto formare anche gli agriturismi alla costruzione dell'equiturismo, ritornare alla storia, raccontare e mitizzare soprattutto quello che hanno fatto i briganti deve servirci a dare anche una chiave di lettura ma tra l'altro anche poter portare e trascinare diversi visitatori, turisti, ospiti nell'agriturismo mettiamoci il cavallo, queste persone si fermeranno a dormire, a mangiare, a prendere i nostri prodotti l'aglianico del Vulture, il pecorino di Filiano e tutto quello che c'è di buono è attraverso il cavallo iniziare a percorrere dei sentieri, sentieri dei briganti, enfatizziamolo, è importante iniziare il progetto dell'ippovie, significherebbe un'altra opportunità di lavoro. I centri ippici, i centri equituristici in Basilicata sono una ventina, servono delle guide equestri, dei grooming, dei tecnici, degli istruttori, andiamo a moltiplicarli, diventerebbero migliaia di unità per i nostri territori. La prima cosa è la formazione, mettiamoci a cavallo, fa bene al cuore anche fino a 90 anni, quindi significa che tiene giovani.